Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Forza ragazzi! Ciao ragazzi, ben ritrovati. Questa mattina voglio tornare con voi sull'argomento che abbiamo toccato nel video di ieri. Tanto per quanto attiene il mercato c'è poco da dire, poche novità da discutere, quindi lasciamo perdere che è meglio. Io vorrei tornare sulla questione comunicazione e inserire anche un ragionamento per quanto concerne il rapporto che questa società ha deciso di avere con i tifosi. Lo faccio a 24 ore dall'uscita di un video in cui si parlava appunto del raduno al fila, del fatto che comunque c'erano anche delle problematiche legate alla, non dico promozione, ma anche solo alla valorizzazione del treno FC come prodotto. Sembra quasi che qualcuno sia infastidito dal dover per forza avere il rapporto con l'esterno. Questo è il messaggio che traspare. Tra l'altro poi nella giornata di ieri sono state anche indirettamente presentate le divise, i kit di allenamento, anche su questo ho da dire un paio di cose, ma vorrei cominciare col rispondere a chi mi ha scritto su Instagram dicendo il tuo video è sparito, il mio video è sparito, poi è tornato, poi è risparito e poi è ritornato semplicemente perché mi sono stati mandati due strike. Che cosa significa? Significa che qualcuno ha segnalato il mio video, non so perché, perché nel momento in cui YouTube ti manda la mail di contestazione non ti spiega la motivazione dello strike, ma ti dice soltanto che il tuo video ha violato gli standard della community di YouTube. Qualcuno l'ha segnalato, io non so chi sia e neanche mi interessa, invece mi interesserebbe sapere il motivo per cui sono arrivate queste segnalazioni. Perché nel video di ieri, che fortunatamente adesso è online e online ci rimane perché sta facendo visualizzazioni e io voglio monetizzarlo, non ho detto niente di che, ho detto semplicemente la mia opinione, sul fatto che ci sia un comparto marketing e social che secondo me nel Torino lascia a desiderare e se qualcuno si è sentito offeso da questo, forse dovrebbe riconsiderare il modo che ha di lavorare. Questo mi viene da dire. Ho detto qualcosa anche su come i media trattano l'argomento calciomercato, infarcendo di nomi anche falsi, e queste sono cose risapute, perché devono riempire pagine di giornali tutti i giorni, non ho detto quindi nulla, né più né meno, che si legge quotidianamente sui social network. Questa è la mia opinione, se poi dovesse casomai dare fastidio a qualcuno, il mio canale è aperto a tutti, chi vuole intervenire mi può contattare in privato, chiacchieriamo e magari ci esce fuori anche un bel video confronto, in modo tale che ci diciamo tutto quello che ci dobbiamo dire. Io sono aperto appunto al confronto e a discutere di ogni questione legata a questi temi, che tra l'altro mi interessano e per certi versi mi toccano anche da vicino, quindi se volete fatevi avanti, ma non mandate segnalazioni ai video, perché fate soltanto una figuraccia. E a tal proposito, ieri abbiamo visto le immagini del Torino radunatosi al fila, Al fila, dopo qualche ora, è stato pubblicato su Instagram, sull'account ufficiale della società, un reel in cui al Filadelfia sono state, tra virgolette, annunciate le nuove maglie, le nuove divise di allenamento per la stagione 2022-2023. Dico tra virgolette perché in realtà la presentazione si è limitata a un reel di pochi secondi, con questi due kit buttati, stropicciati per terra sul campo del Filadelfia, con una musica di sottofondo, e va bene così. Io, ecco, non voglio offendere nessuno, ma se dico che si sarebbe potuto fare un filino meglio, sbaglio, sbaglio. Pensateci bene, al di là dell'opinione che uno può avere sulle divise, e che comunque è rilevante, ma marginalmente, nel senso che il Torino FC probabilmente avrà dato l'ok, ma a disegnarle è stato lo sponsor tecnico, io, ma pensate a che cosa si sarebbe potuto fare, no? Quando l'avete vista, qual è stata la prima cosa che avete notato? Io ho notato il torrello rampante, ad altezza cuore, sul petto, dico, beh, allora forse era l'occasione giusta per sfruttare una, diciamo, dei periodi storici migliori dell'ultracentenaria storia del Toro, ovvero agli anni Ottanta, che insieme a quelli del Grande Torino, e agli anni Settanta con lo Scudetto, probabilmente sono state le decadi più importanti, no? Di questa squadra. Invece neanche un richiamo agli anni Ottanta, quando col torrello rampante campeggiava sulle maglie, anche da gioco del Toro. Ecco, per esempio, qua potevano giocarsela meglio, dirlo e mancare di rispetto a qualcuno, non credo, è un'opinione personale. Così come un'opinione personale, il fatto che, secondo me, lo sponsor tecnico sulla prima avrebbe potuto usare un pochino di più dal punto di vista del colore, dargli un punto in più di granata. Però qua dobbiamo anche lasciare il beneficio del dubbio, perché come mi spiegava un ragazzo che lavora nel settore ieri, va anche detto che delle maglie, buttate così su un campo da calcio, sotto il sole, viste attraverso uno schermo, a livello di colori potrebbero darti un'idea sbagliata. Quindi potrebbe essere che quel granata tendente al rosso fosse molto più granata di quanto non sembri. Andrebbero viste dal vivo. E sicuramente, visto che comunque tendenzialmente mi piacciono, è possibile che prima o poi, quando usciranno in vendita, un pensierino ce lo farò. La seconda non male, anche se io non sono un grande fan dei colori fosforescenti, ma mi rendo conto che i dettagli su un colore dominante scuro come il nero, quindi il più scuro, risaltino meglio queste tonalità fluo. E un'altra cosa che secondo me poteva essere pensata meglio è l'inserimento della tribuna intitolata Ferruccianova del Filadelfia in rilievo in basso a destra, diciamo, sul fianco. Buona idea, buona idea, assolutamente. Però mi sembra un po' adattata alla belle meglio. Cioè, si poteva forse implementare all'interno del design in maniera un pochino più leggera, un pochino più organizzata, ecco non so come dire. Però al di là di questo, è stata una presentazione molto minima. E mi spiace, e ho già paura di vedere cosa succederà quando usciranno le maglie. A proposito, cara Ioma, quando usciranno, poi vedo che la Lazio per presentare le nuove maglie prende addirittura Piazza del Popolo a Roma. Cioè, capite quanta differenza, capite quanta non voglia di fare ci sia all'interno di questa società. E non è una critica, è una presa d'atto che dobbiamo appunto prendere e avere. E questo si ricollega al discorso sul fatto che la società pare non voglia avere alcun rapporto con i tifosi. Ieri sotto il mio video, che poi è stato messo, tolto, rimesso, tolto, eccetera, eccetera, ho ricevuto tra tanti commenti, e vi ringrazio perché erano veramente tanti, un post da parte di un utente che si chiama Pasquale Di Gennaro, che adesso ho qua davanti agli occhi, ve lo voglio leggere, e poi se mi ricordo ve lo metto anche in sovrimpressione, perché sono otto, nove righe, ma di, non dico banali, ma di un impatto, di una leggerezza, di una semplicità che veramente, idealmente lo abbraccio, perché dice delle cose logiche, ma che evidentemente tanti in società non sono ancora riusciti a capire. Che cosa ci dice Pasquale? Ve lo leggo parola per parola. Inizio ad avere la sensazione che l'atteggiamento distante, svogliato dai vertici societari sia voluto, è l'unica costante perseguita con determinazione che riconosca questa società. Sembrano indispettiti, a partire da vagnati che brilla solo per l'incapacità di comunicare e per rara antipatia. Vabbè, queste sono sue opinioni personali. Il livello della comunicazione, ecco, qua centriamo il punto, il livello della comunicazione è assolutamente direttantistico ed è pardossale il fatto che Cairo si occupi quasi esclusivamente di comunicazione. Cioè, se ci pensate, è questa la cosa incredibile. Noi abbiamo il re della comunicazione in Italia e sfido chiunque, al di là di quello che pensiate di Cairo, a dire il contrario. Eppure, eppure, c'è una comunicazione praticamente nulla. Cioè, noi non ci sentiamo parte di questa società, di questa squadra, di questo mondo, ma il Toro siamo anche noi. Il Toro siamo anche noi e nel momento in cui ci coinvolgi a livello di tifosi sappiamo, possiamo essere veramente un valore aggiunto. E invece, questi anni, la costante è stata una totale esclusione del Toro da ciò che il tifoso chiede di fare. Un muro spiegato e spiegabile che noi non ci meritiamo perché tutto ciò che chiede il tifoso è essere vicino a questa squadra, a prescindere dalla società e a prescindere da come la si pensi di questa proprietà. E poi Pasquale scrive Forse, Cairo, sottointeso, non comprende che curare il rapporto con i tifosi non costerebbe nulla e darebbe una migliore immagine a se stesso e di riflesso alle proprie attività economiche. E io aggiungo una cosa. Curare bene e coinvolgere i tifosi aiuterebbe soprattutto nei momenti peggiori perché se non arrivano i risultati che sono la cosa, diciamo, principale visto che si tratta pur sempre di sport se tu non hai un buon rapporto con la piazza decade tutto e la gente sarà molto più propensa a criticarti e a rinfacciarti tutto che non magari se in tempi bui c'è comunque la possibilità di avere un dialogo con i tifosi. I tifosi vogliono sapere, i tifosi vogliono partecipare, vogliono essere coinvolti, i tifosi vogliono avere potere decisionale su certe cose, ovviamente non su quelle economiche, aziendali, questo no, ma su tutta la roba marginale che però in questo calcio è importante come il coinvolgimento social eccetera eccetera i tifosi vorrebbero avere un ruolo da protagonisti io non so perché non venga fatto soprattutto, ripeto, da uno che di questo lavoro ci campa e ha costruito un impero partendo quasi da zero poi Pasquale dice i metodi di caro li conosce tutta Italia è sempre meno apprezzato vabbè, è una cattiva pubblicità assortisce pessimi risultati economici ok, non si è mai visto un raduno di inizio anno a porte chiuse dove i giocatori, l'allenatore arrivano alla spicciolata non c'è contatto con i tifosi qualcuno potrebbe dirmi è stata una decisione presa perché c'è maretta e perché purtroppo la situazione a livello di mercato è anche bloccata e c'è molto malcontento tanto è vero che sono stati appesi anche degli striscioni se così vogliamo dire di contestazione ma perché alla base c'è un non rapporto che ha provocato questo distaccamento tra i tifosi e la società ha provocato un distaccamento molto importante che sarà difficile ricucire e che ormai sarà quasi impossibile da poter rimettere in piedi e questa è stata una scelta io non so se è voluta o meno dalla stessa società stessa società che ha deciso in maniera unilaterale di tenere i tifosi lontani tenere i tifosi lontani da quella che è la loro più grande passione ovvero il toro e il tifo per il toro quindi la situazione è paradossale dicevo soprattutto in un preciso momento storico dove le cose a livello sportivo vanno come vanno e ci sarebbe veramente bisogno che il gruppo squadra il gruppo società e il tifo si unisse tutto insieme ma è chiaro che se non si è voluto fare fino ad oggi difficilmente ovviamente ci sarà un cambio di registro per cui questo è il mio pensiero mi dispiace che il mio video di ieri probabilmente sia stato travisato ma io ho riportato delle cose oggettive e tra l'altro la questione del video fatto al filo a dretti sulle maglie ieri io l'ho condiviso sul mio account Instagram seguite se ancora non lo fate il link è qua sotto ragazzi io vi posso assicurare che avrò ricevuto almeno 50 messaggi in cui si diceva le maglie non sono male un buon design un buon idea alla base ma la presentazione non è stata assolutamente all'altezza questo è il pensiero comune questo è il pensiero generale al netto del fatto che comunque tanto il Torino non accetterebbe rimostranze dateci un modo per comunicare con voi per farvi le nostre considerazioni per darvi dei suggerimenti non insulti non minacce vogliamo far parte 24 ore al giorno 7 giorni su 7 di quello che è per noi più di una squadra ok e voi ce lo state impedendo ce lo state impedendo questo è quanto ditemi come la pensate lasciate un like al video iscrivetevi al canale se ancora non lo avete fatto attivate la campagna di aggiornamenti ci vediamo molto presto e sempre Forza Toro grazie a tutti i nostri spettatori